La madrice di Mazzarino fu eretta su progetto dell'architetto Angelo Italia verso la fine del XVI secolo, sull'area dove prima sorgeva una chiesa dedicata a Santa Maria della Neve. La facciata originaria della chiesa è rimasta incompleta, infatti nella parte superiore destra è visibile un basso rilievo scolpito in pietra raffigurante la creazione di Adamo ed Eva, mentre nel lato sinistro della facciata manca un secondo basso rilievo che doveva raffigurare Caino ed Abele. La struttura interna è composta da tre navate e nell'altare maggiore vi è una grande tela della Madonna della Neve.